Saranno 95 gli infermieri e le infermiere dedicati all'emergenza urgenza che entro la fine dell'anno faranno il loro ingresso nell'asla Toscana Sud-Est. Il nuovo personale sarà distribuito nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale, dunque 33 nell'area provinciale Aretina, 28 in quella senese e 34 nell'area provinciale di Grosseto. Le nuove figure professionali saranno l'occasione per rimodulare e riorganizzare l'assetto dell'emergenza urgenza territoriale in linea con quanto previsto dalle direttive della Regione Toscana e recepite dalla direzione aziendale. L'obiettivo è dare una progettualità che garantisca da una parte il miglioramento dei tempi di intervento e dall'altra l'utilizzo di risorse professionali appropriate, spiega Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell'Asla Toscana Sud-Est. Oggi questi nuovi ingressi ci consentiranno di dare alle postazioni di emergenza territoriale una miglior operatività e efficienza, offrendo la solida stabilità del personale infermieristico assegnato ed anche investendo in modo consistente sulla formazione e valorizzazione delle competenze infermieristiche a vantaggio degli interventi in emergenza urgenza sul territorio dell'Asla Toscana Sud-Est. Infatti questi nuovi infermieri che entreranno a far parte della squadra del 118 saranno chiamati ad effettuare un accurato e nutrito percorso formativo per acquisire le competenze già possedute dai colleghi esperti che garantiscono da sempre le più qualificate risposte ai bisogni di emergenza urgenza nei nostri territori.